Prima metti tu? Sì sì Ci sono un po' di turbulence 2025 giusto? Sì 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 Perfetto Allora segnalate alla radio che che alfa siete voi due? Non siamo in nessun alfa Mettetevi in alfa 2 e dite alfa 2 è decollata diretta al civico 2025 Alfa 2 è decollata con l'elicottero diretta al civico che civico? 2025 Diretta al civico 2025 Affermativo Voi siete elicotteristi? No ma mi piacerebbe farlo Sono molto bravo a pilotare Io penso che prima di entrare in questa città non si può neanche pilotare un'elicottero Ma ad esempio stai chiamate qua cioè quando arrivano chiamatori Solo fuori città puoi fare con l'elicottero Ok o nel caso te lo dice No 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 Non ci credo Ciao morti Non ci credo Venite Alla montagna Veloci Infermieri di essi alla montagna Come devi venire dell'elicottero Dove dobbiamo venire? Ripeta il civico per favore Perché la montagna non ci lasciamo a capire come la tua Non lo so Quando eravamo in elicottero il nostro pilota ha deciso di buttarsi in giro all'elicottero Ci sono trovati ragazzi Eeeh Al 3025 per caso? Eeeh Fuori città Aspetta che ti dico No Sto arrivando io ragazzi Se mi sei al civico che al 3025 sto arrivando io Il pilota perché ha deciso di buttarsi giù? Ah non ne ho più idea Guarda Non gli piaceva più la tua vita? Eh no Mi spiace Ora è Sì Ora è Alla Sì 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 Sì